È arrivato il momento di tornare a casa per la prima volta insieme. L'emozione è forte e tutto deve essere pronto per affrontare la vita insieme. Anche in questo caso l'ostetrica ti starà accanto per fornirti delle informazioni utili, come per esempio l'igiene della ferita, l'alimentazione di mamma e neonato. Attenzione, questo è l'unico caso in cui si viene ricoverati in uno e dimessi in due. Durante la dimissione sarà informata di eventuali controlli. Per te e mamma è previsto un controllo a 40 giorni dal parto. Ricordati che per portare a casa il bambino deve organizzarti per il trasporto. Sul sito troverai informazioni in merito. Per il controllo settimanale del peso del neonato potrai recarti in consultorio dove ci sarà personale esperto che potrà assisterti. Ricorda che andare in consultorio è anche un modo per uscire e confrontarti con le altre mamme. Grazie. Grazie. Grazie.